Io sono Andrea, rappresento Navarini Rame, che è la mia azienda di famiglia. Io rappresento attualmente la quarta generazione. Ci occupiamo di lavorazione del rame. Abbiamo più volte cambiato nella nostra storia la tipologia di oggetti che produciamo e ad oggi siamo un'azienda leader nella produzione di pentole in rame che esportiamo per la maggior parte all'estero. La lavorazione viene interamente fatta a mano a Trento, in provincia di Trento. L'unica cosa che non c'è possibile produrre in loco è il materiale che siamo costretti ad importare dall'estero. Sono Michele Corrà, fondatore di Tretec, un'azienda che si occupa di progettazione, prototipazione e realizzazione di dispositivi elettronici. Operiamo qui a Trento e principalmente seguiamo progetti di conversione di elettroniche industriali, ma nell'ultimo periodo siamo occupati anche di seguire start-up innovative nell'ambito di Internet of Things, quindi nuove tecnologie a supporto di nuovi prodotti. In questo ambito riteniamo che operare nell'ambito dell'open innovation porti grossi vantaggi, soprattutto per la diffusione della cultura delle nuove tecnologie, far capire quali sono le funzionalità che le nuove tecnologie possono portare in modo da affinare meglio quelle che sono le idee progettuali e i nuovi prodotti che vengono realizzati. Sono Mirko Bonvecchio, sono responsabile industriale di HSL, azienda specializzata in servizi di tecnologia a supporto dell'R&D di industria. e sono qui perché crediamo in un modo nuovo di fare le cose e questa trasformazione va in qualche maniera costruita a tutti i livelli, quindi partendo dall'attività di piccola impresa fino a imprese più grandi. Andrea Paternoster, apicoltore, l'azienda che ho fondato si chiama Mieli Thun e si occupa della produzione del miele, soprattutto dei mieli monofloreali, cioè di origine floreale diversa e questa è praticamente la nostra abilità e competenza principale. Le sfide più importanti e anche le più difficili sono quelle di restare sul mercato e restarci in maniera efficace. Il mercato negli ultimi anni sta avendo dei grossi cambiamenti, spinto anche da molte innovazioni tecnologiche. Per aziende grandi è molto più semplice avere capacità di investimento e di adattamento a questi cambiamenti, mentre per aziende più piccole, specialmente artigianali, e con più generazioni che si sovrappongono, c'è una lentezza decisionale e anche di lavorazione intrinseca che rende un po' più complicato mantenersi competitivi ed attivi sul mercato. Dal punto di vista del rame, quello che ha cambiato più il nostro lavoro è stata l'adozione dei piani cottura di induzione, spinti soprattutto dalle case clima, che prevedono quindi piani cottura che sfruttano l'energia elettrica senza più sfoghi di aereazione sull'esterno, quindi case blindate senza gas all'interno, e che ci hanno crostretti ad effettuare una lunga serie di test e di lavorazioni, nonché delle joint venture con delle multinazionali, per riuscire ad ottenere un prodotto che fosse funzionale sia sui piani tradizionali che sui piani cottura di induzione. Un'altra cosa che invece ha segnato molto la nostra fortuna è stata la riscoperta della salute e della qualità nell'ambito della cottura. Ricordiamo tutti un po' le recenti scoperte della tossicità delle pentole antiaderenti che hanno spinto il consumatore, consapevole o meno consapevole, ad informarsi su tutte le alternative che il mercato offre e ci ha avvicinati ancora di più al cliente finale, visto la nostra attenzione nell'utilizzo di metalli puri, certificati, non nocivi per la salute e l'assenza totale di processi galvanici, dell'utilizzo di acidi e quant'altro. Un Fab Lab potrebbe essere utile ad un'azienda come nostra su tantissimi livelli. Diciamo che il problema delle imprese artigiane è principalmente quello della scala, siamo tutti su piccola scala, quindi ognuno di noi, come me in prima persona, innanzitutto impegnato nella produzione e nella lavorazione dei propri manufatti. Questo comporta anche il fatto che ci sia poco tempo da dedicare allo sviluppo dei prodotti, a guardare l'andamento del mercato, anche alla ricerca tecnologica. Ecco che quindi strutture come queste possono permettere alle aziende come le nostre di trovare un ambiente in continuo fermento, un ambiente positivo, dove ci sono idee, continui confronti e è possibile confrontarci con noi anche proprio con il mondo. C'è anche quindi la possibilità di concretizzare idee, perché tutti noi ne abbiamo riguardo al nostro prodotto, cosa ci piacerebbe fare, però spesso quello che mancano sono i mezzi. I fablab da questo punto di vista possono essere l'occasione e il posto per creare delle reti non solo sociali, ma anche lavorative tra aziende che mettano in comunione, che mettano a disposizione competenze per poter sviluppare e rendere concrete quelle che per noi rimangono solo sogni o idee. Nelle aziende artigianali tipicamente non c'è una suddivisione in reparti perché non si hanno le dimensioni tali da poterselo permettere. Diciamo che c'è più una specializzazione dei singoli soggetti, una serie di sinergie tra loro che portano alla produzione di idee, idee che possono venire appunto dai soggetti all'interno dell'azienda, quindi dagli artigiani stessi, piuttosto che dai clienti con cui si viene in contatto oppure i professionisti del settore. Poi dall'idea si cerca di lavorarci su, si cerca di informarsi, si cercano eventualmente figure professionali o aziende che possano dare supporto e si inizia pian piano lo sviluppo, sperando poi di arrivare alla concretizzazione. Le maggiori sfide che incontriamo quotidianamente anche in termini aziendali sono quello di reperire personale altamente qualificato in questi ambiti tecnologici, quindi principalmente ingegneri elettronici e telecomunicazioni, con una forte spinta all'innovazione e alla ricerca di soluzioni che siano legate alle tecnologie crescenti ed emergenti. Per questo ci vuole un aggiornamento continuo che non è legato soltanto alla formazione universitaria o scolastica, ma è legata spesso anche alla propria iniziativa di aggiornamento, di ricerca e di aggiornamento, ripeto, su tecnologie che quotidianamente crescono, si propongono sul mercato, ma che anche quotidianamente cambiano, quindi un aggiornamento che porti ad essere sempre sulla crista dell'ondo, diciamo noi. Questo, ripeto, è una difficoltà a volte nel ricercare anche personale, però porta anche a grosse soddisfazioni quando si incontrano persone con particolari idee innovative che possono essere tradotte poi in soluzioni progettuali. In una logica di cambiamento cerchiamo di capire quali saranno gli attori più importanti da qui nel prossimo futuro, in cui ovviamente ci possono essere acceleratori, Fab Lab o anche piccole imprese come Artigiani Puri. Pensiamo di poter supportare questo cambiamento perché noi stessi ci siamo innovati da questo punto di vista negli ultimi dieci anni e in particolare sulla capacità di creare una rete lo vediamo come un elemento determinante. Ci sono sfide personali che sono quelle legate, come dire, alla soddisfazione di ciò che si fa, quindi la capacità di esprimere il proprio bisogno di creatività. Questa è la cosa più intima. Se poi volessimo metterlo dal punto di vista di chi utilizza i nostri prodotti, si alimenta, dobbiamo sottolineare il fatto che produciamo una cosa così importante che serve per alimentare le persone. E poi in quest'ambito facciamo una cosa ancora più straordinaria che è utilizzare il miele che è il profumo dei fiori. Allora, chiunque mette un cucchiaio di questo miele dentro un bicchier d'acqua, lo scioglie e lo beve, si beve una tisana di profumo di fiori. Certo, di cosa stiamo parlando? Ecco, forse una delle sfide importanti sarà quella di riuscire a trasferire al pubblico, anche a chi è, anche a chi ignora l'importanza di questo alimento, la potenza di un cibo che è prodotto dai fiori e masticato per le api, e masticato dalle api per noi. Quando abbiamo fatto questo, possiamo chiudere il capitolo del nostro impegno in questo lavoro.